Non ci sarà più per indicare o menzionare un'atleta che ha dato e sta andando tantissimo al governo questo punto. Oggi raggiunge le sue 500 partite della casacca del pozzacco il capitano Donorico Donoronei, regna il presidente di questo punto, appunto verrà prosegnata anche la Maglia Rossoblu con il punto di 500 partite della guerra per la Maglia Rossoblu. Grazie a tutti. Grazie.